Domani si celebra Cristo Re dell'Universo, cattedrale della Spezia in festa, le parole del parroco Don Piercarlo Medinelli. È Filippo Ivani il nuovo assessore alla sanità e alla sicurezza della Spezia, polemiche sulla comunicazione della nomina. Cadano i ricoveri per Covid in Liguria ma non alla Spezia, in ASL 5 114 nuovi positivi e un decesso. Ancora fumata nera tra ASL, KCS e sindacati. Martedì 1 dicembre personale della RS Amazzini in sciopero. Lo Spezia sfida l'Atalanta e il risultato ai commenti nella trasmissione dopo Le Aquile al termine del telegiornale. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Liguria Sud. Apriamo questa edizione con la politica perché c'è una novità nella giunta comunale spezzina. È infatti Filippo Ivani il nuovo assessore alla sanità e la sicurezza del comune della Spezia. Il nuovo ingresso in giunta si è reso necessario in quanto l'ormai ex assessore Gianmarco Medusei è stato eletto in regione. Ascoltiamo allora il neo assessore Ivani nella nostra intervista. Siamo con Filippo Ivani, il neo assessore del comune della Spezia, prende il posto di Medusei che è stato eletto in consiglio regionale. Una nomina forse inaspettata anche per lei? Sì è stata una nomina inaspettata, io l'ho saputo solo ieri sera con una telefonata, ho riflettuto la notte e poi ho deciso. Diciamo che lei è stato responsabile della Lega in Val di Vara, quindi si sposta alla Spezia un territorio in parte diverso da quello che è della Val di Vara, una nuova realtà. Qual è l'approccio con il quale si presenta la città? Sì è un approccio completamente diverso, io sono onorato di ricoprire questo ruolo e ringrazio tutte le persone a partire dalla senatrice Pucciarelli, l'onorevole Viviani che mi hanno sostenuto con il mio nome e anche al sindaco Perachini per aver accettato la mia nomina. Ha già in mente qualche i primi impegni che saranno i suoi impegni per questo nuovo ruolo di assessore? Diciamo che devo ancora prendere in mano la situazione, ho sentito la segretaria, mi ha già informato di alcune cose che sono da fare inizialmente, il tempo lunedì di iniziare poi sicuramente ci saranno novità. Visto che l'ha citata lei stesso, la comunicazione della nomina è arrivata dalla senatrice Pucciarelli, della senatrice della Lega e non dal sindaco della Spezia, su questo già ci sono delle polemiche, come risponde? Ma non si devono fare nessune polemiche, io questa mattina intorno a luna, questo primo pomeriggio ho sentito il sindaco Perachini, mi ha chiesto se ero pronto e carico per questo compito, io lo sono, sono onorato e felice di poter servire i cittadini di Spezia al massimo delle mie possibilità, quindi nessuna polemica, le polemiche le lascio sempre agli altri. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a tutti. Lo abbiamo sentito, non sono appunto mancate le polemiche sulla modalità con cui è arrivata la comunicazione della nomina da assessore di Ivani, che è arrivata non dal sindaco ma dalla senatrice Stefania Pucciarelli. La senatrice leghista ci conferma quanto sappiamo da tempo, cioè che la nostra città non ha un sindaco. Lo affermano Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia Viva la Spezia e Corrado Mori, responsabile di Italia Viva la Spezia Golfo. Non ci resta che ringraziare la senatrice, proseguono per la schiettezza della sua dichiarazione. I complimenti per la scelta dell'assessore glieli faremo semmai più avanti, se questo suo nuovo rampollo darà migliore prova di sé. Domani, l'ultima domenica dell'anno liturgico, ricorre la festa di Cristo Re dell'Universo. È anche quindi la festa tutelare della Cattedrale della Spezia intitolata appunto a Cristo Re. Ed è anche la festa patronale della parrocchia della Cattedrale. Sentiamo a questo proposito allora il parroco Monsignor Pier Carlo Medinelli. Domani si celebra la festa di Cristo Re. Come parroco mi è parso giusto dire un pensiero così qua con lo sfondo della nostra Cattedrale in questa bella giornata di sole. Che cosa significa celebrare la festa di Cristo Re per tutti ma anche per noi soprattutto di questa parrocchia? Significa riconoscere che Cristo è veramente il Re. Dice il Concilio che Gesù è la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Ecco Gesù è un Re che per prima cosa però non è che governa come fanno di solito i Re. È un Re che si prende cura di tutti, si prende cura di noi, si prende talmente cura di noi che muore in croce per noi. Poi risorge, poi sale al cielo e lì appunto è Re di tutti. È un Re che è come un pastore, per questo è anche la giornata del seminario, un pastore che ha cura di tutte le sue pecore, un pastore che ha a cuore veramente la sorte di ogni uomo. Dobbiamo ricordare che Cristo è anche Re che poi ci giudicherà, ci giudicherà alla fine dei tempi, alla fine della nostra vita con un giudizio che è un po' singolare perché in fondo giudicherà soltanto su una cosa, è un esame di cui sappiamo già quali sono appunto le domande. L'esame è quello dell'amore. Ci chiederà se ci siamo accorti che lui era vicino a noi, vicino a noi soprattutto nelle persone più povere, più sole. Era vicino a noi quando ci chiedeva un po' da mangiare, un po' da bere, era vicino a noi quando ci chiedeva un po' di attenzione, quando ci chiedeva un sorriso, quando ci chiedeva un po' di considerazione. Ecco, credo che vivere la festa di Cristo Re oggi per la nostra comunità parrocchiale, ma un po' per tutti, sia proprio prendere sul serio questa figura di Gesù, un Gesù che ci giudica, ma ci giudica proprio sull'amore, sul suo amore, sull'amore che abbiamo per i fratelli più piccoli, più poveri, più abbandonati. E passiamo al bollettino regata alla situazione del coronavirus in Liguria e nello Spezzino. Nella nostra provincia sono 114 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. 24 sono derivanti da contatto di caso confermato, 90 invece sono riscontrati da attività di screening. A livello regionale invece il totale dei nuovi positivi è di 761, a fronte di 6476 tamponi. In ASL 5 si registra purtroppo anche un decesso, si tratta di un uomo di 85 anni che è deceduto ieri all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il numero delle vittime legate al covid in tutta la regione aumenta di 20 persone. E nello Spezzino salgono anche i pazienti ricoverati in ospedale, sono 151,1 in più rispetto a ieri. Aumentano anche le terapie intensive che risalgono a quota 15, in questo caso 2 in più rispetto alla giornata di ieri. E sono questi dati in controtendenza rispetto al resto della Liguria, dove il numero delle persone ricoverate in ospedale scende invece di 50 unità. Tornando alla provincia Spezzina, gli attualmente positivi sono 2.275 e le sorveglianze attive 642. E proseguono i controlli legati al rispetto delle norme anti-covid anche nelle attività commerciali. Considerando soltanto gli ultimi tre giorni, la Polizia ha controllato 16 esercizi di grande e media distribuzione e 17 negozi di vicinato, senza riscontrare alcuna violazione. I controlli ovviamente proseguiranno anche nei prossimi giorni. e i tassisti stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Non ci sono infatti quelli che sono i loro clienti principali, ovvero i turisti e i croceristi. E far quadrare i conti è quindi complicato. Facciamo il punto con il presidente della categoria nel servizio di Vimal, Carlo Gabbiani. Le immagini sono di Sergio Dioffi. Tassisti spezzini che sono veramente in difficoltà. Il coronavirus è avvenuto proprio nel momento in cui arrivavano i turisti, in cui sembrava che l'economia decollasse. E quindi molti avevano anche investito nei mezzi, nella licenza e adesso si ritrovano veramente in una situazione difficile. Certo, sicuramente ci ha colpito un po', diciamo così, a tradimento. Ci aspettavamo sicuramente dei momenti migliori, anzi, increscendo. Però questa è la situazione. Allo stato attuale ci stiamo rendendo conto che purtroppo non riusciamo più neanche a coprire i costi. Speravamo di riuscire alla fine dell'anno, almeno di non essere in negativo, diciamo così. Però purtroppo è dura. Avete chiesto alla politica di essere inseriti nel trasporto pubblico? Sì, l'abbiamo richiesto a più riprese. Questo è un tema su cui abbiamo battuto anche prima, perché riteniamo che comunque è una cosa che possa in ogni caso, Covid o meno, ridurre i costi. In questo caso sarebbe una sorta di reddito di sopravvivenza, insomma qualcosa che ci possa consentire di andare avanti ancora questi mesi che non si sanno quanti, che non si sa quanto possa durare. Sì, abbiamo avuto un'audizione anche col Presidente della Commissione Trasporti della Camera, che ci ha confermato che ci sono dei finanziamenti proprio per il trasporto pubblico locale e che forse potrebbero esserci un'aggiunta di altri fondi, che quindi è una questione anche da risolvere più a livello locale che con le amministrazioni, con le municipalizzate. Potete svolgere anche in questo momento un prezioso servizio alla comunità? Ci sono delle agevolazioni per le persone anziane per poter usufruire dei taxi per le persone più fragili che sarebbero a rischio a prendere i mezzi pubblici? Sì, sicuramente. C'è un finanziamento, diciamo così, un aiuto economico riconosciuto dalla regione agli ultra 75 anni, alle persone con disabilità o con semplici problemi motori o malattie rare, anche donne incinte, che possono sfruttare 250 euro di bonus, di voucher spendibili nei taxi. Ci confidiamo, certo, vanno richieste e quindi speriamo che gli spezzini si attivino per prenderla, diciamo, che si diano da fare. E continuiamo con due provvedimenti sempre legati all'emergenza. A Santo Stefano resterà aperta anche domani la pista ciclopedonale che sarà sorvegliata da personale addetto alla sicurezza, che monitorerà gli accessi e vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Invece l'area verde polivalente di Arcola sarà chiusa dalle 14 alle 7.30 del mattino successivo, dal lunedì al venerdì e per le intere giornate di sabato e domenica. Lo ha stabilito con una ordinanza il Sindaco Monica Paganini, alla luce dell'impossibilità di garantire un monitoraggio costante del rispetto del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione all'interno dell'area verde. CGL, CISL e UIL hanno indetto lo sciopero del personale della RSA Mazzini per la giornata del primo dicembre. I sindacati infatti affermano che il tentativo di dialogo chiesto ad ASL 5 e KCS sul futuro della struttura non ha prodotto alcun risultato e considerano grave la dichiarazione unilaterale di 50 esuberi. Inoltre i sindacati affermano di non avere ancora una convocazione ufficiale per l'incontro con ASL e KCS e non avere notizie sulla avvenuta firma della Convenzione. A questo si aggiungono anche i timori che vengano riportati alla Mazzini i pazienti Covid. Ci auguriamo che la proroga tecnica di un mese al contratto a Coop Service per il servizio di pulizia, sanificazione e supporto logistico ad ASL 5 sia funzionale a chiudere in modo positivo e definitivo l'avvertenza dei 158 OS. Lo afferma la UIL Liguria che torna a chiedere un concorso pubblico per titoli che tenga quindi conto dell'anzianità, dell'esperienza e della professionalità dell'attuale personale di Coop Service affinché questo venga internalizzato. Stefano Bettelli è il nuovo responsabile generale della Filt CGL Spezzina che rappresenta i lavoratori dei trasporti. Succede a Fabio Quaretti che ha ricoperto il ruolo per ben 14 anni e che continuerà nell'incarico di segretario organizzativo della Camera del Lavoro. Bettelli, 51 anni, è già segretario generale Filtem CGL da settembre 2019 ed è il primo dirigente della storia della Camera del Lavoro Spezzina a dirigere quindi due categorie. Follo batte tutti gli altri comuni della Liguria con popolazione al di sopra dei 5.000 abitanti per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata e si pone al secondo posto assoluto preceduto dal solo rialto che però conta meno di 600 abitanti. Ha raggiunto infatti il Comune di Follo la percentuale di 85,7% di rifiuti differenziati con quindi un netto balzo rispetto a quella che era la percentuale del 19% del 2015. È buono anche l'aumento rispetto allo scorso anno con un 6% in meno di rifiuti che finisce in discarica. E nel 2020 potrebbe essere anche abbattuta una nuova barriera ovvero quella del 90% di rifiuti differenziati. Ci spostiamo a Sarzana dove il Comune ha affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per la rotatoria di Piazza San Giorgio per una spesa di 6.785 euro. L'amministrazione infatti ha ritenuto terminato con esito positivo la prova di rotatoria provvisoria stabilendo quindi di costruire quella definitiva che deve dare anche un nuovo restyling alla piazza. La consegna degli elaborati è prevista entro la fine di dicembre e l'affidamento dei lavori entro il gennaio del prossimo anno. E restiamo sempre a Sarzana perché la polizia locale ha affidato l'incarico per la demolizione e prima la rimozione di cinque veicoli lasciati in stato di abbandono nel territorio comunale. La somma stanziata in questo caso è di 750 euro. La provincia della Spezia aderisce a province e comuni il progetto dell'unione delle province italiane per rilanciare l'efficienza e migliorare gli investimenti. Il progetto accompagnerà le province per la durata di tre anni in un percorso di riorganizzazione e di accrescimento delle competenze del personale mirato a rafforzare le capacità di programmazione, di progettazione e di realizzazione degli investimenti. Questo non solo rispetto alle proprie competenze ma anche a supporto dei comuni. E vediamo ora come ogni sabato quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserito spezzino del quotidiano cattolico avvenire. Il seminario luogo di grazia e benedizione. In apertura della pagina spezzina di avvenire il messaggio del vescovo per la giornata dedicata a chi si prepara al sacerdozio. Il box centrale è proprio dedicato ai seminaristi. Quattro seminaristi, tre di Ceparana all'istituto che si trova a Sarzana. A centro pagina un'anima per la tecnologia. Incontri a distanza promossi dalla comunità dei Cappuccini di Monte Rosso al mare. E a fondo pagina invece frate Sereno da Levanto al mondo. Troviamo un ricordo di fra Sereno Baiardi scomparso nei giorni scorsi a Trento all'età di 79 anni. Era molto legata appunto alla Liguria e allo spezzino. Il box a fianco è invece dedicato ai luoghi del cuore. L'iniziativa del FAI nella quale sta riscuotendo grande successo la chiesa di San Michele a Pegazzano che sta scalando appunto la classifica dei luoghi del cuore. L'articolo di spalla invece Colombano, Francesco e il bene comune. La città vescovile di Brugnato festeggia lunedì San Colombano Abate. Queste le principali notizie che potete leggere domani su un certo spezzino del quotidiano cattolico a venire. Più di un giovane spezzino su tre con un tasso alcolemico superiore al limite. È il risultato piuttosto inquietante emerso dallo screening tra la movida del centro spezzino condotto dai volontari della Croce Rossa. I risultati di questo screening nel servizio di Carolina Cardetti con le immagini di Raffaele Maudella. Quali sono stati i risultati della campagna che è terminata ad ottobre? Ad ottobre come giustamente detto è terminato un importante progetto del Comitato della Spezia della Croce Rossa che ha coinvolto il gruppo giovani dei volontari della Croce Rossa della Spezia. Dal nome è stato Dainai Live. Questo progetto aveva come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi all'abuso dell'alcol durante i sabati sera e comunque prima di mettersi alla guida. Abbiamo raggiunto la quota dei mille alcol test effettuati e abbiamo anche avuto possibilità di effettuare un sondaggio ulteriore su più di 600 di questi mille alcol test per diciamo possiamo redigere anche una statistica a livello locale di quelli che sono poi i risultati effettivamente. Abbiamo riscontrato che il 35% dei 600 alcol test sottoposti a indagini e statistica ha fornito un risultato positivo con tassi di alcol nel sangue superiore allo 0,5 grammi per litro e quindi sopra la soglia legale consentita dal nostro codice civile. Come è stata la collaborazione con il Comitato Nazionale? Grazie al Sindacato Nazionale degli agenti assicuratori abbiamo potuto fornire un alcol test gratuito monouso come gadget a tutti coloro che si sono sottoposti al nostro alcol test in piazza. Quindi ringraziamo il Sindacato per aver creduto nel nostro progetto e averci fornito anche le basi diciamo economiche per portarlo avanti e concluderlo felicemente. Con Fartigianato la Spezia ha lanciato la campagna Io compro artigiano, io compro sotto casa, io vivo il mio quartiere. Si tratta di una campagna di comunicazione che trasforma prodotti tipici, quartieri e piazze in ambasciatori del territorio. Lo scopo è quello di sostenere gli artigiani e i piccoli commercianti sensibilizzando le persone, soprattutto in vista del Natale, a fare acquisti nei negozi di vicinato preferendoli a quelli online. I carabinieri vigilano come sempre anche sulla produzione dei vini DOC delle Cinque Terre. I controlli sono stati svolti in modo da tutelare le eccellenze agroalimentari del territorio e anche le aziende che le producono. Vediamo in merito il nostro servizio. La produzione del vino DOC Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchettra passa anche sotto i controlli dei carabinieri. I militari che operano nel Parco Nazionale delle Cinque Terre hanno infatti controllato l'intera produzione. Sono stati 22 i controlli eseguiti in 16 diverse giornate. Gli accertamenti hanno molteplici obiettivi. Oltre a monitorare una produzione d'eccellenza, prevengono le condotte dolose, valorizzano le aziende produttrici, tutelano il consumatore e gli investimenti dell'ente parco per promuovere l'attività agricola tradizionale. I vini Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchettra infatti sono vere e proprie eccellenze del territorio e ne rispecchiano l'identità. Entrambi derivano da uve bosco, albarola e vermentino coltivate e vinificate nel Parco Nazionale, nel cui territorio ricade la zona di produzione della DOC. Il vino Cinque Terre Sciacchettra è ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, secondo un rigido protocollo. La vinificazione non può avvenire prima del primo di novembre dell'anno della vendemmia ed il vino ottenuto non può essere immesso al consumo prima di un anno. Acquisita l'idoneità della Camera di Commercio, può essere venduto con prezzi al dettaglio variabili da 100 a 400 euro circa al litro. Nel periodo autunnale i carabinieri verificano i quantitativi sia di uva posta da passire che di vino ottenuto dalle uve dell'anno precedente, nonché di vino bianco dell'annata, al fine di impedire l'utilizzo di uve o di vino d'altra provenienza. Nel corso dell'anno poi estendo di controlli agli esercizi commerciali e ai vigneti iscritti all'albo della DOC. I numeri del 2020 dicono che delle 30 aziende produttrici, 23 hanno vinificato il DOC e 15 selezionato le uve per lo Chaketra. Per produrre lo Chaketra sono stati messi ad appassire 35.517 kg di uva, quantitativo superiore a quello dello scorso anno. Il vino bianco prodotto 181.871 litri è stato invece circa il 17% in meno dell'anno precedente. È stato presentato il nuovo calendario CITES, la Convenzione sul commercio internazionale di specie della flora e della fauna a rischio di estinzione. Il tema trattratto per questa 14esima edizione valorizza il ruolo dei carabinieri a protezione di questi esemplari sia animali che vegetali. Si tratta di una interessante opera ricca di foto spettacolari da sfogliare e mostrare, ma soprattutto anche di un importante strumento di educazione e di divulgazione per il rispetto dell'ambiente. La settimana della cultura classica non si ferma e approda online, prevedendo dal 23 al 27 novembre una serie di eventi in videoconferenza che saranno trasmessi sulla pagina Facebook del Liceo Classico Costa della Spezia. Primo appuntamento lunedì 23 novembre alle 15. I particolari nel servizio di Sergio Diofi. Nonostante le esigenze che ci portano naturalmente a tenere lontani e a non poterci avvicinare a causa appunto del coronavirus, noi vogliamo portare avanti la cultura e quindi la cultura classica va avanti. La settimana della cultura, come tutti gli anni, alla fine di novembre intraprende dei percorsi per tutta la cittadinanza con esperienze sul mondo della cultura classica. La settimana della cultura classica va avanti. La cultura non si ferma ma online, quindi vi invitiamo a seguirci sul canale Facebook con tre conferenze con due relatori di eccezione. Il 23 di novembre alle ore 15 collegatevi con il professor Francesco Licausi, ex allievo del Costa, studente della scuola normale Sant'Anna, poi ricercatore di Sant'Anna e Posdam e infine docente associato all'Università di Oxford. Lui ci presenterà una conferenza sull'origine della terra e la xenobiologia. Invece a giovedì e venerdì alle ore 16.30 ci sarà il professor Roberto Danese dell'Università di Urbino, professore di filologia classica, che ci presenterà due argomenti interessantissimi che sono Catabasi, cioè la discesa agli inferi, E e il cinema. E in un'altra conferenza venerdì, invece, la comicità del teatro classico nella commedia e nel teatro contemporaneo. Vi aspettiamo tutti e siamo contenti di potervi accogliere nelle nostre mura online. Vi aspettiamo. Lo scudetto dello Spezia, storia della vittoria dei Vigili del Fuoco del 1944 e del presidente che diede vita al sogno. È l'ultimo lavoro di Armando Napoletano, giornalista e scrittore, che da anni si batte affinché venga ufficializzato il titolo onorifico conquistato dai pompieri in tempo di guerra. Lo ha intervistato Gianluca Tinfela. Lo scudetto dello Spezia, una riedizione speciale per questi momenti che stiamo vivendo con lo Spezia in Serie A, con qualche novità anche dal punto di vista di un episodio e più episodi storici di questo scudetto che del 1944 ha scritto una pagina indelebile dello Spezia Calcio. Sì, per raccontare questa storia siamo partiti questa volta dal presidente di quella squadra Corolliano Perioli e dal suo arresto e dalla scomparsa poi a Gusen. È una vicenda drammatica che è un pezzo di storia però sia dello Spezia Calcio che della città. È una vicenda che va seguita in maniera particolare e che ancora adesso nella sua drammaticità affascina molto. Prefazione anche di Gian Felice Facchetti, una personalità del mondo del calcio e anche dello spettacolo che ha legato il suo nome anche a questa storia dello Spezia Calcio. È diventato un tifoso d'onore, nel senso che lui chiaramente ha una matrice interista addosso che nessuno gli toglierà mai, è una questione di DNA. Però ha portato sul palco a teatro la vicenda quando eravamo quasi in cielo che ha fatto due anni di repliche ma soprattutto è uno di quelli che ha interpretato meglio il senso e la letteratura della vicenda. Per tutti gli appassionati di Spezia Calcio dove si trova, dove riusciamo a trovare questo libro nella nostra provincia? Per ora è stato distribuito dall'edizione Giacchè in tutte le librerie e presto verrà distribuito anche nelle edicole. E questo ci porta quindi al calcio giocato, a parlare dello Spezia, dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Spezia in campo oggi e il match con l'Atalanta si è concluso con il risultato di 0 a 0. Vediamo allora anche l'altra partita che si è giocata oggi, quella tra Crotone e Lazio finita 0 a 2. Sono invece in programma questa sera alle 20.45 Juventus Cagliari, domani invece alle 12.30 Fiorentina Benevento, domani alle 15 Ellas Verona Sassuolo, Inter Torino, Roma Parma, Sampdoria Bologna e sempre domani ma alle 18 Udinese Genoa e domani alle 20.45 Napoli-Milan. E se guardiamo la classifica in testa c'è sempre il Milan con 17 punti, a seguire il Sassuolo con 15, Napoli-Roma-Lazio-Atalanta 14, Juventus 13, Inter e Verona 12, Sampdoria e Cagliari 10, Spezia 9, Fiorentina 8, Bologna-Parma Benevento 6, Torino-Genoa 5, Udinese 4 e chiude il Crotone con 2 punti. E vi ricordo che della partita di oggi dello Spezia si parlerà subito dopo questa edizione del telegiornale della trasmissione condotta da Gianluca Tinfena dopo le Aquile. Noi continuiamo con lo sport parlando di basket, basket femminile, la Credit Agricole, sfiderà domani al Palamariotti alle ore 18, Civitanova-Marche. La partita ovviamente a porte chiuse sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento a partire dalle 17.55. E con questo si chiude questa nostra edizione, a me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Come sempre vi lascio alle previsioni Meteo di Limet e il Centro Meteo per la Liguria. Arrivederci. Un saluto a tutti da Vittorio Scrivo di Limet, le previsioni per domani, domenica 22 novembre in Liguria. L'alta pressione torna a coricarsi sul Mediterraneo, garantendo così la permanenza di condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato. Temperature minime in ulteriore calo nei fondovalle interni, dove potranno avere luogo anche diffuse gelate, saranno invece in aumento nei valori massimi. Veniamo però al dettaglio per domani, domenica 22 novembre in Liguria. Giornata stabile e soleggiata e attesa su tutta la regione. Potrà residuare qualche nube bassa al primo mattino in prossimità dello spartiacque centro-occidentale, ma con la tendenza a dissolversi molto velocemente. I venti si presenteranno tesi da nord e nord-ovest tra Savona e Genova, specie sulle vette, i crinali montuosi e allo sbocco delle vallate. Risulteranno invece deboli o al più moderati altrove. I mari risulteranno stirati o poco mossi sotto costa, saranno invece mossi o molto mossi a largo, soprattutto sul quadrante centro-occidentale. Generale tendenza ad un abbattimento del moto ondoso è atteso comunque in serata. Le temperature risulteranno in calo nei valori minimi, specie nei fondovalle interni dove potranno avere luogo anche diffuse gelate. Saranno invece in contenuto aumento nei valori massimi. Lungo la costa valori minimi compresi tra 5 e 10 gradi, nell'interno tra meno 6 e 4 gradi. Massime invece comprese tra 11 e 15 gradi lungo le coste, tra 8 e 13 gradi nell'interno. Per maggiori dettagli vi rimando come di consueto al nostro sito centrometeoligure.com e vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Limet. Grazie a tutti!